Domani, venerdì 12 aprile, alla Casa del Donatore di Sangue a Teramo, a partire dalle 19.30, si svolgerà l'Aperibook, lettura e aperitivo, nell'ambito del progetto Entrare dove non si entra, che fa parte del percorso del Patto per la lettura. Nell'ambito del Patto per la lettura e del progetto Entrare dove non si entra, che è il progetto che il Patto per la lettura ha promosso e che ha vinto un bando del Ministero del Centro per il Libro e la lettura, siamo arrivati alle battute finali di questo progetto, dopo una parte formativa che ha coinvolto tanti volontari e volontarie nel corso dell'autunno, adesso siamo arrivati in questa fase tra marzo, aprile e maggio in cui si stanno svolgendo finalmente le letture, che sono il cuore del progetto, perché il progetto vuole portare la lettura e i libri in contesti altri, in contesti particolari in cui non si legge o il libro non entra e quindi sono in corso delle attività di lettura ad alta voce nella casa dei minori non accompagnati, all'ospedale, alla casa di riposo, nelle fabbriche e in tutti i luoghi particolari in cui si fa altro e non c'è il libro a lettura. Uno di questi appuntamenti è venerdì 12 aprile alle 19.30 nella casa del donatore di sangue con l'Aperibook e l'iniziativa è organizzata in collaborazione con la FIDAS. Esatto, tra i tanti firmatari o collaboratori del patto per la lettura c'è anche la FIDAS con la quale abbiamo stabilito un rapporto di collaborazione per svolgere queste letture in un contesto particolare e con il corredo anche del suono e del buon cibo.